Tutto iniziò nel 1868 ad Asiago, un'incantevole località delle prealpi Venete. Un giovane farmacista, Giovanni Battista Rossi, crea liquori e distillati divenuti famosi nel mondo per la loro qualità ed esclusività. Profumi, sapori, gusto, sono la base dell'ispirazione di Giovanni Battista Rossi. Erbe, spezie, frutta, bacche vengono usati come materie prime per ricavare un estratto naturale dal gusto unico. Il gusto persistente e inconfondibile è il risultato di un processo produttivo artigianale ed esclusivo che deriva da 150 anni di esperienza.